Prima di iniziare il video volevo augurare a tutti quanti voi un buon 2022 Ovviamente spero anche in una buona chiusura del 2021 Auguroni a tutti quanti E soprattutto grazie mille per avermi seguito e accompagnato in questo 2021 qua sul canale Ne abbiamo passate tante, grazie, grazie, grazie Ovviamente non mancherò e spero che non manchiate neanche voi in questo 2022 E spero che sarà fantastico per tutti voi Spero che vi porti tanta gioia, tanta felicità, tantissime nuove cose, belle, brutte Se sono brutte prendete insegnamento da quelle, mi raccomando E ragazzi, 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 auguroni, auguroni Sono le 20 e 26 del 31 dicembre E in gioco ogni ora potremo vedere l'evento di Capodanno Quindi dovrò aspettare alle 21 per vederci insieme questo evento Allora vedrete questo video sicuramente più tardi delle 21 Come al solito, scusatemi ma ho avuto tanto da fare Mi sono liberato solo ora Più che da fare mi sono riposato perché ho avuto da fare sino al tardo pomeriggio diciamo Poi mi sono riposato Quindi aspettando l'evento di Capodanno delle ore 21 Andiamo a guardarci lo shop del giorno perché abbiamo dei nuovi items di Capodanno Purtroppo non sono gratuiti per tutti noi Costano in V-Buck Non tanti V-Buck Però andiamo a guardarceli Sono carini Abbiamo un bundle Ci vediamo direttamente questo bundle Ecco qua l'emote Ma che carino questo backpack Ma è fighissimo E' il delta plug Bello 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 Bundle 2022 a 600 V-Buck Manca ancora un po' Penso che editerò il video Poi andiamo a spiaccicarci il pezzo dell'evento Comunque abbiamo ancora un po' di tempo E ne approfitto Per ricordarvi che Ragazzi Ragazzi ragazze E Cosa fate? Non lo aggiornate? A fine 2021 e a inizio 2022 Il codice creatore FDPA nello shop di Fortnite Cliccate lì in basso a destra E digitate FDPA Maiuscolo minuscolo E uguale Cliccate su accetta Vi ricordo poi di aggiornarlo Ogni 14 giorni Perché Scade Quindi nel 2022 L'anno prossimo Dovete aggiornare il codice Capito? Ovviamente tutto questo non è un brigatorio Grazie mille a chi lo fa Grazie mille a chi lo farà A few moments later Ci siamo Ci siamo Dai Mancano pochi secondi Ecco Oh 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 Let's gooo Mamma mia E Caporano Cinque Cinque Quattro Tre Deve Wellu Let's gooo auguri 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 Gigi